Ad aprire la rubrica, il cellulare era completamente schizzato. Joelle, puoi ascoltare questi indrograti? Allora, Joelle, mazzo di carte, tieni così. Tu conosci le carte da gioco? Sono dall'asso, a re, cuori, cuori, fiori picchi. Dimmi una carta da gioco, vai. Due di cuori. Bellissima carta. Dimmi una carta, due e mezzo, difficile. Ventisette. Ventisette. Anzi, ventitré. Come vuoi tu? Ventitré. Ok, adesso, scordami benissimo. Il ventitré, se noi invertiamo i due numeri, diventa? Tremando. Sono anch'io freddissimo. Se la trentaduesima carta fosse il mio cuori. Assurdo? Assurdo, io sto toccando mai le carte. No, no, no. Sto toccando mai le carte. Ok, tu stai, se ce la fai, a togliere l'elastico, perché non voglio mai toccare, capito? Tu togli l'elastico e conti sulla mia mano trentadue carte, giusto? Girate, girate, vai. Così facciamo più, vai. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Tredici, quattordici, quindici, sedici, diecisette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventidue, ventitré, ventiquattro, venticinque, venticinque, ventisei, ventisette, ventozo, ventinove, trenta, trentuno. Tu hai detto? Giù di cuori. Girate. Pazzesco. E la cosa impressionante, se noi mettiamo sopra e tu conti da qui, la ventitresima carta, è la tua carta. Conta, stai a mano. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, trentici, quattro, undici, quindici, sedici, sette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré. Pazzesco, grande. Signori e signori, ma Magic Boy.